benvenuti in questo video sono il giorno 25 siamo su fall guys partiamo subito vediamo di fare una due partite e dopo chiudiamo l'episodio e poi spengo perché devo aspettare di giocare ho giocato abbastanza anche se comunque sperava di fare di più ma evidentemente non ce l'ho fatta veico subito allora che non c'è questo video sta avvenendo dopo l'altro video dei gtr o prima perché dopo che sarà caricato quello inizierò a fare dei video su gtr molto più spesso perché voglio portare avanti voglio finirlo e anche se comunque abbiamo già finito metà avventura quindi già con la storia l'abbiamo già finito ho fatto del platino ho fatto tutto quanto infatti il video di mercoledì che avete visto il 77 e ho fatto l'ultima platino e ho vinto quindi adesso dovrei fare le dovrei fare la metà arcade quindi adesso vedremo cosa accadrà con la metà arcade perché devo registrarvi più video del gioco in modo da andare avanti però la serie l'avrei già terminata quindi questi episodi sono in più di gtr sono in più perché voglio portare avanti e avanti le cose naturalmente voi potete dirmi qualcosa ne fate io perché altro vi prendo le casse vi prendo le casse e faccio la partite singole in modo da prendere le casse poi naturalmente voi mi potete dire se volete vedere tutte le gli estera della metà arcade oppure volete che mi fermo lì mi fermo lì mi fermo lì e va bene mentre mentre vi parlo mi distraggo quindi mi distraggo e sia ok dove devo schivare sta roba vai sopra ok aspettiamo la ventola va bene devo recuperare devo recuperare speriamo che non siete casino perché sono animali che fanno casino quindi non dovreste sentire però se si avvicinano alla porta fanno casino ma devo andare di lato perché sennò qua non si risolve niente guarda fatto vedere come l'altra volta e attenzione a questi ostacoli va bene avremmo messo il checkpoint e dobbiamo saltare di là adesso perfetto passati abbiamo passato arrivato dodicesimi circa quindi va bene 10 minuti di video spero di riuscire a registrarveli perché sennò se sentite il rumore di animali devo 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 cancellare la registrazione però sperando che non sentiate casino perché sennò se non va bene poi magari ctr ve lo potrei portare non più il mercoledì ma giorni casuali fare un po ctr un po fuigai se poi fare un po ctr un po fuigai un po paladin quindi fare un po te due e va bene fatemi controllare un attimo la cosa ok dovreste non sentire niente di casino quindi dovrebbe andare bene finché non stanno davanti la porta da bagliare va bene io ho dei cani avete dei problemi non so io io sono una persona normale e vivo con gente altre persone e quindi poi altre persone e la famiglia quindi vabbè dobbiamo aspettare ok si attiverà questo adesso no non si è attivato troppo troppo tardi troppo presto soltato questa volta lo becchiamo dobbiamo recuperare un po di posizioni dovrebbe partire dall'uscita fatemi entrare ok uno è già arrivato credibile no non mi fare sbalzare via ok ho saltato due ostacoli che neanche io ho capito come guarda quanto stiamo registrando 4 minuti e dovrebbe durare l'episodio no però devi andare su e sennò ok attenzione 10 14 no che arrivo tardi ventesimo ok ce l'ho fatta a pelo ventesimo questo è difficile ma si riesce a fare quindi dipende degli altri giocatori perché saremo tutti davanti e allora è impossibile riuscire a batterli perché se vanno veloci e non sbagliano manco un colpo non si può fare comunque vi stavo dicendo questa cosa del fatto che vi spostavo ctr perché ho bisogno di fare più video di ctr quindi magari ci passerò dei giorni in cui registrerò ctr 2 3 episodi e magari anche un po di fall guys per fare tutta la stessa giornata registro tutti gli episodi e poi vi ricarico a spezzoni un po' tutta la settimana quindi voi li vedrete c'è la tigre qua dark tiger beh sei arancione non sei dark però contento tu di essere dark ok qua ci sono anche la frutta che cade sul campo uno è già caduto seguiamo il verde perché qua e se vi levate di mezzo magari è meglio il leone come fa a stare lì no è buggato non poteva stare lì adesso dobbiamo scrivere questi uh qua abbiamo rischiato beh non è neanche tanto l'ultimo ok è caduto perfetto un altro episodio lo stiamo facendo il video del telefono è stato caricato quindi adesso vedrete anche avete già visto il video del telefono speriamo quindi guardate il video mi raccomando il video di aste castle che è una serie che sto portando avanti perché ci sto giocando quindi voglio registrare il video perché faccio vedere i miei progressi e quindi sto andando avanti e vabbè mentre giochiamo parliamo di altre cose questa questa è bella ma è difficile molto bella ma è difficile da fare perché ci sono troppe cose che ti sbuttano giù e qua devi solo arrivare a traguardo quindi non devi arrivare primo non devi arrivare qualificarti devi solo arrivare a traguardo perché chi arriva a traguardo si qualifica quindi in questo senso dobbiamo qualificarci però non 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 dobbiamo superare gli altri perché basta arrivare a traguardo e senza cadere la merma perché se mi butto giù da solo così ci perdiamo tutto 7 minuti di situazione quindi dopo questa partita qua penso che ci stopperemo ok e vabbè ma se non mi smiggete me magari meglio oh stavo per cadere ok attenzione va bene io saldo sui bordi perché è più sicuro no non è sicuro però è più facile capirlo ok va bene io salterei qua no sono caduto non ci credo e vedi se cadi così è bella sta mappa però è difficile vedete tutti questi ostacoli questa è troppo lunga questo aspetta sicuramente perché fa anche bene vabbè io sono caduto quindi l'episodio abbiamo fatto vedi io mentre vi sto registrando i video vi carico altri video quindi sono carico e pronto per caricarvi tutte quelle questo qua ha sfruttato una molla che per spostarsi questo arriva all'altra guardia sicuro la banana la banana ci arriva attenzione dove va la banana cosa fa la banana ma va il traguardo vabbè questa banana non si sa cosa sta facendo però vabbè non lo stesso magari si voleva divertire un attimo e mettersi in pericolo per fare un po' di emozioni ma va bene ho 6600 punti perfetto salta ok 7547 ok pelle di serpente sbloccata non la metterò perché mi piace più più che il verde mi piace più il mio colore rosso e va bene così adesso vi devo stoppare il video perché se il tuo video è casino quindi devo stoppare devo stoppare quindi vi saluto spero che il video vi sia piaciuto e mi sono venuto a trovare l'unico spazio libero per che non ci sia casino quindi apprezzate questo e lasciate un bel like un commento per darvi la vostra opinione riguardo la serie se volete vedere solo le vittorie però mi sembra il caso di portare solo le vittorie se no sto lì ora e ora a registrare e faccio un video e basta quindi non avrebbe senso perché io non mi reputo più forte di tutti mi reputo un giocatore normale e quindi gioco al mio livello e poi non gioco tutto il giorno a questi giochi gioco tanti giochi diversi a cui giocare quindi vario tanto e mi impegno su tanti giochi diversi quindi imparo un po' i comandi di uno un po' i comandi dell'altro e un po' mi vengo un po' sbalzato dei comandi perché devo cambiare stile di gioco niente, lasciate un like se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, un commento per darvi la vostra opinione così mi fa sapere che state guardando i video vi iscrivetevi al canale, condividete e noi ci vediamo nel prossimo video A presto! A presto!